cari amici di fano tv torna finalmente il nostro viaggio alla scoperta dei carri allegorici 2023 del carnevale di fano e allora andiamo subito a vedere le opere dei maestri carristi fanesi che vedremo sfilare nelle date del 5 12 e 19 febbraio lungo via le granci valeria guerra oggi si presenta il suo carro allegorico un carro che ha un titolo particolare che cosa rappresenta cosa troviamo sopra il carro allora il titolo del carro è come sarebbe il passato se il futuro fosse arrivato prima rappresenta la trasformazione della carrozza di cenerentola e vedremo comunque in alto i topini e anche davanti che trainano la zucca che rappresenta sono rappresentati nella storia di cenerentola il cocchiere però tutto in stile steampunk lo steampunk è un filone della narrativa fantastica fantascientifica in cui quasi tutte le storie sono rappresentate in una londra vittoriana del diciannovesimo secolo e quindi troveremo molti elementi del diciannovesimo secolo tra cui il vapore da qui il nome steampunk steam e l'ingranaggio la meccanica e sarà un tripoggio della meccanica quindi avremo diverse spettacoli che non vi sto a raccontare e una bellissima cenerentola a facciata durante l'illuminare ci saranno degli effetti scenici quindi fumi e delle bellissime luci e vi aspettiamo tutto il carnevale di fano e ci divertiremo tutti grazie grazie